Il treno Reggio Express, 26, 46, di Trenord, delle ore 5.34, proveniente da Mantova, è diretto a Milano Centrale, è in arrivo al binario 2, ferma a Goffolo, Piadena, Torre De Picenardi, Gazzopieve San Giacomo, Villetta Malagnino, Cremona, Ponte D'Adda, Codugno, Milano Rogoredo, Milano Lambrate. Il treno Reggio Express, 26, 50, di Trenord, delle ore 6.59, proveniente da Mantova, è diretto a Milano Centrale, è in arrivo al binario 2, ferma a Goffolo, Piadena, Cremona, Ponte D'Adda, Codugno, Lodi, Milano Rogoredo, Milano Lambrate. Attenzione! È severamente vietato attraversare i binari. Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale delle ore 7, proveniente da Cremona, è diretto a Mantova, è in arrivo al binario 1. Ferma a San Michele in Bosco, ospitaletto Mantovano, Castellucchio. Il treno regionale delle ore 8 e 49, proveniente da Mantova, è diretto a Piadena, è in arrivo al binario 2. Ferma a Bozzolo. Il treno regionale delle ore 10 e 43, proveniente da Mantova, è diretto a Cremona, è in arrivo al binario 2. Ferma a Bozzolo, Piadena, Torre Depice e Nardi, Gazzopieve San Giacomo, Vile e Tamalagnino. Il treno regionale delle ore 8 e 08, proveniente da Parma, è diretto a Mantova, è in arrivo al binario 2. Ferma a San Michele in Bosco, ospitaletto Mantovano, Castellucchio. Il treno regionale delle ore 9 e 59, proveniente da Milano Centrale, è diretto a Mantova, è in arrivo al binario 2. Ferma a Castellucchio. Ferma a Castellucchio. Grazie a tutti.